2, 1, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa live, una nuova serie che sto facendo, vi so, intanto startiamo subito, insieme a Yuagi, si legge così? Yuagi, ok, in duo ragazzi, in duo, partiamo dal server 5 proprio, lezzi e sudici, io sono un silver, e lui è un diamon 7, attenzione ragazzi, diamon 7, già ve lo state chiedendo che non esiste il diamon 7, pre diamon. Consenti, ok, mentre mangio ragazzi, scusate, vi mangio questa torta qua, non so se riuscite a vederla, penso di sì. Allora, devo dare un attimo la sistemata qua alla chat, ok, banno, banno, chi banno, banno? E la ho i. Ok, vediamo se si vede, ok, perfetto. Allora, voglio... Dov'è? Proprietà. Voglio dare un attimo una sistemata alla chat di Streamlabs. Quindi, client, Simlabs, proprietà, metto 300, voglio provare una cosa, eh. Ok. Dobbiamo cliccare, transizione. Mi sono appena aggiornato a corpo. Cazzo giochi a Overwatch, me lo dissi? Perché? Perché su? Pizzo da puttana! Ma chiaro ce l'ho a Overwatch. No, io non ce l'ho a Overwatch, c'è a pagamento. No, non ce l'avevo già appassato. Arocei! Sandro, quando giocavamo a Overwatch, c'è a Overwatch, ancora in Venezuela. Arocei! Eh sì, tranquillo, ce la faccio. Pensavo di non farcela, ma ce l'ho fatta. Chiudo la porta. Anzi, no, la lascio aperta. Dai, almeno per ora. O la chiudo, no, la chiudo. No, no, la lascio aperta. Su Roma si sente solo, Geml, vai a fare le compagnia. Eh? Su Roma si sente solo, vuole che gli fai compagnia. Su Pugbe, su Pugbe. No, non su Pugbe, su... Pugbe deve aggiornarlo. Su Warframe. Su Roma. Puede che lo cao ha visto Warframe ha detto. Uncetbox, provita. Ok. Vasky sta rompendo il caccio Perché? Ha provato a farsi la Kira Vabbè Kira ha provato a montarsi Aika E Aika si è montato Kira Eh ma non ce la fa a partiti Aika è troppo greffa Vai vediamo cosa ci riserva questa partita Nani le scacciamo i teccani? Che cosa sta succedendo ai teccani? Sono trap tutte e due? Allora chat vediamo perché non si vede bene Come vorrei Wow pure i silver hanno più schimmi di me E poi Kuroma sta giocando a Dragon Ball E infatti anche Kuroma fai schifo a Dragon Ball Kuroma Fingga Che Dragon Goku Com'era? Goku Goku Super Saiyan 5 lo deve sbloccare Diceva Madonna di qualcosa Oh gem Eh io ci metto in due sonne il suo Madonna Nooo E c'è pure il Goku di livello 4 E mai esiste nessuno di quelli Wait aspetta che sto cercando di risolvere il problema della chat su Streamlabs Ai token Chi è Kuroma quello che fai iuuu Come uno ha soddisfatto iuuu Oh però cazzo Che tmo Manfia Da un casino di godo Che cosa che da un casino di godo? Che tmo Manfia Dove ho messo sia di Carrie Arul sto volando Arul sto volando Vedere una cosa Vedere una cosa 30 secondi alla generazione dei mini Ehm Ok Ho superato le imposizioni di standardi R Perchè te ne stai andando? Perchè te ne stai andando? Ah Haru non passai dalla jungle Forse è già invaso Ok Arrivo da qua comunque Cio le ali Haru Perchè me Ma che Ed è l'unico che c'ha Ed è l'unico gay Ed è l'unico gay Anzi qua c'è l'altro accanto a te Oh mio dio la combo Domina che stiamo citando Oh Che sicurezza Due frosi Stiamo eh Stiamo due frosi stiamo citando Stiamo Varus Guarda la skin di blitz che ha E' fighissima E' fighissima Ti va se lo stunno Le stelle erano la domanda E' una risposta Ogni quanto ce l'ha il grab blitz? Un minuto e venti alla mia guarda Andiamo tutti verso la stessa inevitabilità Non c'è bisogno di correre Ok Mi prendo il carretto vediamo se riesco Ok Io conosco la misericordia La bellezza fragile di questo mondo deve essere preservata. La montagna è eterna come la speranza. Forse la combo è meglio al contrario con il studio. Ehm, insomma, dimmelo. Io te lo dico se è giusto. Prima la W e poi la Q. No, principalmente si spama solo la Q. Perché ho notato che il range è più corto della... La W può colpire solo i campioni. Sì, hai ragione che può colpire solo i campioni. Però se c'è uno davanti che ti sta scappando, secondo me l'ideale sarebbe quello. Vado back io. Mi sta arrivando qualcun altro. Cavolo, tutti e quattro qua sono. Via, via. L'opera di un fine artigiano. Vado. Si è fatto che lo appare, Aro. Nani. Ma è bad. Ok. Allora. Ma se ti grabba e sono vicino a te, uso la E subito. Sì, ritorno. Ok. 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 io no 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 niente e mi sa di jungle perchè blitz si era andato in giungla a volte vale la pena morire per una vita bello a vedersi? pensi che ne lo sappia ok shit per quanto occhio a parte il grab adesso no quanto mi detto che era a 12 secondi 6 secondi 4 secondi ho l'ex house pronto ho l'ultimate ci vogliamo provare sotto torre e mi chiamando pusa 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 sarò chiaro crystalium ma ora i metto i ultimi no 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 Oh, bella bella, bella. Sono l'aspetto del protettore. Bella bella, dai. Pensavo di morirci, mi ha salvato Alessandro. Ti stumava la morte. Non è riuscito a stumare, ti ringraziare. Ti ringraziare, inginocchiati! Ah, già. Vediamo se ci sono commenti, guys. Nessun commento. Va bene. Dai, ora si può giocare anche tu. Anche andare a giù. Mentre si sentono i teletrasporti di Kuromava. Oh, no. 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 la montagna rivela le più oscure verità delle nostre aeree ah se adesso che sono in live posso fare la telecronica della nostra partita almeno della botlane cavolo Sandro me li devi lasciare i minion così di curo no non mi fa danno Varus maiale no minion di merda grabami maiale sudicio guardami maiale guardami umani guardami guardami ohhh boom b***e non ce la fatti bella dai damn holy fuck wow bellissima wow ben morto oh dai sandro holy fuck man mamma mia attenzione incredibile come si salva il nostro ad carry scusate guys ma purtroppo ogni tanto controllo la live perché anzi dai faccio una cosa così non si blocca più la live no bordi ok infatti adesso posso andare a fare altro dub ovunque senza che si blocchi incredibile questo dc mamma mia ci fa sognare vai aiutalo aiutalo il support intanto si beve una pozione di acqua per riprendersi un po' le masa era la mia casa ma le stelle sono la mia destinazione non è drago facendo drago che punto è? ah è da solo ah no c'è varus 30 secondi all'ultimate vabbè che mi grabba però vattene vattene my bad mamma mia ho pensato che stava arrivando anche il mid ma sono stato stupido non ci dovevo andare assolutamente allora ho finito l'oggetto questo da support ora faccio la scarpa appena posso attenzione Lissandra viene gabbata blitzkrand 2 vs 1 interviene subito Evelyn attenzione riesce ad assicurarsi la kill del top laner che è assolutamente ah no è jungle alla Jais vuoi vedere è jungle shit perchè li lastiti se tanto i soldi li prendi anche tu eh sei troppo lento Aro aiutami a bruciare posso usare i ricordi sono il nome di più ormai puli pucia pucia va bene Sono in tre Vado a mettere una ward qua Non si sa mai Potrebbero bussare la made questi Prendere questi minion è l'unico modo per fare un po' di soldi Ok vediamo la live mentre uno spettatore che eravamo in due Stiamo scendendo guys Ok vediamo il mid lane interviene Gragas Lissandra Maru non stavi giocando Sto giocando mentre faccio la telecronaca della mia partita Nani Andiamo bot subito La bot nemica prova a sfondare la torre Ecco l'ultimate di Ezreal che devasta un po' i minion per cercare di allontanare gli nemici Ma niente da fare riescono a portarsi via la torre Ecco la bot line Attenzione ragazzi La dc chiede l'engage Chiama l'engage la dc La dc è molto scioccata La dc sta sciocando caccaa ovunque La top lane sembra avere molto il controllo del territorio che si è assicurata le torri Le due torri guys Attenzione c'è Evelynn siamo pronti per l'engage 20 secondi alla mia ultimate Maiali Aru sta giocando Tarek Oii Watch out man 4 secondi alla mia ultimate Attenzione Bellissima ragazzi Bellissime azioni qua Partono le belle azioni Vai vai pushiamo Sandro dai tanto sono morti La vita umana è infinita Io piazzo delle ward qua Ok Siamo sicuri che il voto del cavaliere Non ha un limite di durata E' infinito aru Finchè non ti crepa la dc è Ho la ultimate Oooo quanti cazzo sono Oooo quanti cazzo sono C'è che non ci arrivo a salvarti Solo 4 BOT Quattro BOT Ma io ho già di ristallato un gioco più BOT Prende troppo Preparati Il prossimo server di Travian No Gem Guarda come Silvella no? 5 BOT E top ha sfuda fino alla loro base eh Non è tutto il ridempio Solo per uccidere mea Ah che gente vera Ma dove fa si prendere la lama delle rovina? Ezreal Lama delle rovina Bloodster Penetrazione Primi due item scegli tu Se fatti il Gauntlet O il O il No Manamune è sicura Ma o ti fai il Gauntlet O ti fai la Trinity Rinity Rinity è più aggressivo Il Gauntlet è un Più passivo Ma Con un POC migliore Ok 2000 gold Becco Attenzione Andiamo a vedere subito la mid lane Ezreal in pericolo Attenzione Flash subito Il top lane Che riesce ad assicurarsi la kill Guarda Me la aspetti di commentare dalla base Oh Porca miseria Guarda è quella della base a commentare Non puoi farei due cose contemporanea Eh certo Diglielo Haru non sei don Ahahahah Ok 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 Arrivo tranquilli Ma la top è proprio al massimo Dello sfondamento No 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 La top La nostra top Guarda Nooo Aveva 5 botte Lui era da solo sfondare Oh Finchia Over Attenzione Il support Farma Guarda Ma io non so se Certo volte Loro mi si buga Cioè F drea che fa Quello movimento Di Mic比較 Quando gioco v Secondo la fa la mia v Attacca in avanti E poi fa un 360 Saranno dee Degli easter egg Ahah Boss Ai ru Ai ru lu' Nolio Non conosco la misericordia Sina Pa Ma L'altra parte all'altra parte è veramente lento che devo dire ma poi tu hai preso la strada opposta cioè tu stavi scappando di qua io ero di qua mamma mia questo support attenzione incredibile riesce a carriare questo game Giacomo cosa ne dici del support della botlane guarda Luca io sicuramente ti posso dire che la DC guardalo Giacomo che sicuramente senza la DC cioè senza il support la DC non avrebbe riuscito a combinare niente devo dire che il support sta carriando questo game da solo Giacomo Giacomo secondo me sai ieri troppa birra l'ha fatto sballare Berlino Per questo Ezreal non riesce neanche a iccare una Boom Ho visto la luce così nitidamente che non temo più l'oscurità Ricorda dovrebbe stare in un museo Oh damn Eh mi hanno saltato Dove fare Di danni Vediamo il team fight Eh è andato proprio è andata Aia Double attenzione l'AD carry E' morto è morto Chi è morto? E' morto Vabbè da lì non ti potevi salvare Ormai c'era da morire e basta Allora il 15% dei danni subiti dai campioni viene guadagnato come mana Questo no non mi serve Aumenta tutte le cure ricevute dal 30% Questo Ah compro questo A posto dai Ma cosa sta trollando? Ma cosa sta trollando? Attenzione il team fight parte No No Attenzione Kled Prova a bloccare l'issandra Niente da fare si ritira appena vede Evelyn Due contro uno non rischia Cerca di farmare Attenzione si avvicina il support nella mid lane Con dietro l'AD carry Ultimate Vediamo dove doveva finire subito Riuscire a killare Varus No Attenzione Kled e Blitzkram Molto pericolosi Lo stun Lissandra Flash di Blitzkram Prova il grab Incredibile signori Ti faccio il coso mentre Il 5 come funziona Tiè Penso di averlo usato Kled Sì No no Stavo venendo da te Pensavo c'era tutto il team di là Vai Se Usi la E Ti uso la E anche io Vai tanto non muori più con me Dai 4-5 secondi per lo stun 2 secondi 2 secondi Madonna Ahia Ciao Oh my God oh damn Arus perchè non li hai uccisi ecco è la colpa a me matto attenzione questa di Kerry si sta per perdere no dai allora fai in serio non fai che la voce di mezzo ah lei è notata anche tu no 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 ma io serio sto giocando pensavo li uccidevi invece non li hai uccisi e che erano quattro porca miseria è la tua ultima di mezzo che ha salvato te basta che l'ha lanciato guarda si sta per perdere io te lo dico si sta per perdere di brutta e non sto schiettando eh questo si perde veramente se non se non andiamo tutti insieme la montagna è eterna come la speranza ma devo capire anche come funziona questi item vai mi taro vai mi prendi le scarpe non hai ancora preso le scarpe no? ho le scarpe le devo poter già bellezza cristallizzata che ero diventare vutt poco sono in volta ce una o lei si la aviva vai eh vita c***o facciamo chi il drake controllo del territorio oh va ci vado da dietro vado di qua eh dov'è? c'è giocati anzi c'è giocati sta facendo il giro? guarda dove è preso vabbè dai vado a vedere se ci sono i tuoi merdi addio adattarsi o perire pucia 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 aspettate c'è blitz anche pucia lascia non c'è nessuno capisce che quando ho i cosi ci conviene sia a loro che a me di farmeli cedere questi minion o la ultimate dai che cazzo la torre di merda gg guys bella partita bella partita che basta che pochi 2v5 allora ne facciamo un altro dai full rank ed full rank ed si si abbiamo vinto c'è boss che caria madonna certo devo carriare questo sandro ma ci riusciamo ad arrivare a a bronzo qua no a bronzo ma che sta vicino a silver 4 oggi in una serata non credo io in una serata ho fatto da gold 5 a gold 1 capito capito è giocatore senza dormire proprio senza nici il fatto è se vinci di seguito ti fanno anche jumpare eh no perchè non salgo così che cazzo dorme? cosa serve a dormire? cosa serve a dormire? a dormire è pepabio è pebrozi dormire io lo posso non permettamolo così cazzo pure in stagione facevo after durante i chi banno? chi banno? garen garen è un problema secondo me con che lazio di mouse hai messo boss? ti passo io qua che bello oh oh hai sentito? come che mouse? è la freccetta che hai messo ah qualche cursore dici? vediamo fammi vedere cosa dove li prendi? dimmi il sito che io ti dico se è lo stesso for cursor è quello che usi tu no l'avevo scaricato tipo quanti anni fa? non mi ricordo vediamo ma quale? non so se ce li ho ancora eh però penso di no dopo andare a cercare mi ha passato un amico con cui giocavo ah questo è so good vediamo se c'è ancora mi sa che mi ha cancellato lo lo rank 3 si esce si esce si esce come si esce? oh no 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 oh mio dio non ho preso Ennio avui tu mi metti che ca lo prendo qui tinro? dobbiamo vincere sandra dobbiamo scalare dai! dobbiamo arrivare a gold abbiamo già il tan, fammi vedere che cosa picca fammi vedere cosa piccano, se piccano più alto, se picci allora tank nasus ci sta dai taric mi sa che ci sta non è male però ci sta taric dai prendo taric vediamo chi è l'ora di carry oh sono usciti? ha abbandonato durante la selezione dei champions, madonna io? si ma io ho scelto i champions, no? eh aspetta io ho scelto i champions, no? eh c'è ma non l'hai lockato ah lo devo lockare per forza, non era come prima? eh mi sa di no, non ne ho idea non bastava i champions dopo oh my god guys oh my god guys va bene aspettiamo questi cinque minuti nel frattempo ragazzi se volete dire qualcosa in questa live sono dietro di rispondervi madonna mia cinque minuti e... ma avevamo un bel team eh era neanche brutto ho perso la prima castiglia what? er er in in promo? ma io... io non ne perdo vero? ah io perdo io ho 98 pl quindi se vinco se vinciamo questa qua a seguito rientro nella... nella roba lì ok mentre evo cinque minuti vediamo vediamo cosa devo fare raga ehm... andiamo a... anzi no scrivetemi al mio canale scrivetemi anzi ragazzi vi do anche il link del twitch di quello che gioca con me adesso del mia di carry lo... lo scrivo qua ragazzi seguitelo deve ancora iniziare ma vi assicuro che è un diamond quando fa solo duo mi fa sognare mi fa sognare oh mio dio allora vediamo follower ma facciamo trio? gioca anche boss no? allora ecco qua c'è anche boss aru non si fa a cancellare tutte le lune no? allora me lo linko qua ragazzi non si fa a cancellare tutte le lune boss no? se volete seguire il mio ADC lo seguite qua è diamond support però che dopo barba usi? Gillette penso si chiama oh questa cosa sta uscendo da Dottlin? eh beh se mi commentano questa roba io devo fare devo rispondere io che preservativi usi? no jam siamo in live cazzo sono domande eh ma domande fuori discussione dopo eh no c'è gente che la vuole sapere eh io vorrei sapere la Romagna e si se si fa a cancellare ah ecco cancella perché non è disponibile il canale di di che cosa? da boss Sandro eh perché come non è disponibile? what? certo che è disponibile ah è offline però funziona c'è cazzo quante lune avevo vai stream anche tu Sandro no 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 invita a me invita a boss così ci siamo in tre e vai a dar vai a dar vai a dar Grazie.